Oggi faremo un giro all'Holt e per la prima volta prendiamo un menù per bimbi. L'Holt, con oltre 200 ristoranti in Italia, Svizzera, Francia, eccetera, è un'azienda italiana, nata nel 2002 con il fondatore Marco Di Giusto. Il menù per bimbi ha una sorpresa, adesso lo vedremo insieme. C'erano dei pastelli colorati per disegnare sopra alla tovaglietta dei bimbi con dei giochi, sicuramente per bimbi più grandi e anche il giochino è un po' per bimbi grandi perché è un po' pericoloso. Sono questi due. Questi sono i nostri super panini, paninazzi, buoni come sempre. Ciao! 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 Ovviamente non poteva mancare il dolce. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina e di lasciare un like. Al prossimo video!